Buongiorno a tutti, amici, colleghi, pazienti. Alessio Redaelli, Milano, Italia. Vorrei presentarvi oggi questo mio libro particolare, Medicina estetica in odontoiatria, tecniche mediche e a completamento dei piani di cura odontoiatici. Nessuno in Italia e nel mondo, penso, possa controbattere il fatto che io sia stato un pioniere nell'insegnamento ai dentisti già dal 2007-2008, quando, secondo un pensiero estremamente corretto, ho pensato che anche i colleghi odontoiatri, strettamente nella loro area di competenza, possono utilizzare selezionate tecniche di medicina estetica a completamento dei loro lavori che fanno in maniera meravigliosa all'interno dei tessuti periorari. Per questo motivo ho scritto questo libro, Medicina estetica in odontoiatria, estremamente pratico, come sempre, dove i lettori troveranno dei capitoli abbastanza interessanti, a mio parere, sia sull'anatomia della regione, sia sulle tecniche estremamente dedicate agli odontoiatri, tipo il gummy smile e le parafunzioni, il bruxismo, dove sicuramente gli odontoiatri possono essere i primi specialisti indicati nella correzione delle stesse e poi alcune tecniche selezionate di medicina estetica nell'area periorale. Si tratta di un libro, come vi ho detto, estremamente pratico, di facile lettura, dove ancora una volta ho cercato di portare avanti quella filosofia per cui anche semplicemente con delle fotografie o forse meglio con delle fotografie, i lettori potranno capire come si facciano e come si eseguano in maniera perfetta le tecniche descritte. Io vi ringrazio molto, vi aspetto sul mio canale YouTube Alessio Redaelli, sul mio sito Docredaelli.com e se volete acquistare i libri su medicalesthetic.it dove trovate il canale per ordinarli e averli al domicilio. Grazie molte, ciao ciao!